Francesco Giano 9, 8, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 queste le notizie di oggi e anche le notizie devono avere un chiedispettacolo giornalista, podcaster, content creator Francesco Giano qual è questo profumo che ha fatto girare la testa a Fosca? scusate la pronuncia encore du temps di Mio Fasciuni lui è un artista dei profumi anche io sul francese encore du temps dove lo trovi? encore du temps encore du temps e a me piace tanto le storie anche attorno ai profumi racconta insomma che lui si trova in Cambogia a un certo punto è ispirato da questo profumo e vuole dire ancora voglio che questo momento continui ancora per tutta la vita un momento d'amore con la sua compagna mentre era in Laos non so mai dire se poi il profumo che tu hai secondo te è quello che lui stava sentendo in Cambogia? o è una sua interpretazione? secondo me una sua interpretazione e l'ha confezionata talmente bene che ho voluto dargli quello ancora du temps ancora du temps allora io non metto profumo dai tempi in cui negli anni 90 andava CK1 te lo ricordi? col boccino tutto un po' così mai più best quindi non ho neanche idea del mercato dei profumi Maurizio mi ha fatto un segno così per me potrebbe voler dire 2 euro 20 euro 200 euro 2000 euro non ho idea di quanto sono 200 bombe? hai capito? devo dire mi sono appassionato recentemente della scoperta dei profumi bravo 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 allora Francesco ci sono tante cose di cui di cui vogliamo parlare devo dire che anche solo ad averla nominata ha tecchito subito la questione organizzatore questura allora primo maggio che è in arrivo festa dei lavoratori un po' forse possiamo iniziare da un cappello sul mondo del lavoro in Italia sul lavoro in genere e poi questa cosa che è più sì una sporcatura di costume ma che fa sempre molto ridere sì calcola la festa del primo maggio c'è dal 1889 quando si decide a Parigi è una festa molto sentita giustamente i dati sul lavoro in Italia possiamo dire non sono ovviamente esaltanti ma non sono neanche super drammatici il lavoro nel 2023 è stato in crescita calcola che adesso abbiamo 23,5 milioni di lavoratori tra dipendenti e dipendenti che sono più 500 mila cioè più mezzo milione rispetto al 2022 sì sono c'è ovviamente la piega dell'occupazione femminile però per la prima volta l'occupazione femminile in Italia ha superato per la prima volta i 10 milioni sì quindi diciamo non siamo messi malissimo potremmo essere ovviamente meglio tu ti occupi principalmente appunto di comunicazione di come le cose vengono veicolate come mai quando il mondo del lavoro ha una flessione verso il basso veniamo bombardati da questo pessimismo e quando i dati poi vanno meglio io non avevo idea pensavo che fossimo ancora in una situazione drammatica cioè probabilmente la situazione non è ancora felicissima però è in crescita come mai non si perché si dice good news is no news eh sì good news is no news c'è un fenomeno interessantissimo in America allora in America che si chiama vibe session la recessione delle emozioni cioè in America ci sono stati sotto Joe Biden più di 5 milioni di posti di lavoro creati la disoccupazione non è mai stata così bassa il pilo non è mai andato così in alto l'America è forse la nazione che si è più ripresa dalla dalla pandemia sì dal covid eppure se tu vai a vedere tutti i sondaggi delle persone tutte le persone credono che si trovano meno meglio rispetto alla pandemia molto peggio e si chiama infatti gli economisti l'hanno denominata vibe session cioè non la recessione dell'economia che in questo caso non c'è ma la recessione delle sensazioni delle vibes cioè ci sentiamo molto peggio rispetto a come stanno andando effettivamente le cose sì perché naturalmente noi ci fermiamo a guardare un titolo quando c'è un dato negativo sì tu ti fermi la tua attenzione se io apro la porta e dico oh Ale non sai che cosa brutta mi è successa può essere anche perché stiamo vivendo l'epoca in cui diamo forse l'importanza più alta di tutta la nostra storia alla nostra percezione personale su ogni cosa sì gli americani ripeto trovano una parola per tutto e hanno definito la parola post truth cioè una post verità non conta tanto la verità conta la percezione mia nei confronti della verità e abbiamo delle discussioni infinite lo vediamo anche sui social non partendo dai numeri o dai fatti ma partendo dalla nostra percezione sì magari un po' di colpa ce l'hanno anche i talk show secondo me in cui c'è un dibattito in cui uno dice A uno dice B e tu alla fine ti ritrovi senza un singolo dato allora non dico una soluzione però una strada può essere partire da un dato cioè il PIL è un aumento o in discesa rispetto all'anno scorso poi su quello valutiamo e discutiamo sì sì cosa si può fare di diverso di meglio eccetera eccetera però insomma il dato resta tale l'opinione si deve costruire sempre sui fatti certo e invece riguardo al primo maggio che poi si porta sempre questo concertone il concertone del primo maggio che forse succede un po' per tutti gli eventi ma è l'evento principe in cui avviene il grande duello tra organizzatori e questura gli organizzatori dicono al concerto del primo maggio c'erano 94 milioni di persone la questura dice sarete state in 15 massimo una ventina come è possibile che ci sia sempre questo delta tra questura e organizzazione? a proposito di post verità e di mancanza di un fatto da cui partire c'è sempre questo scontro allora diciamo che il problema si inizia a porre all'inizio degli anni 70 movimenti, operai lotte studentesche iniziano tante manifestazioni in Italia la polizia inizia a tutte le polizie europee si iniziano a porre il problema ok ma come li contiamo quanti sono? il metodo calcolato dalla polizia è abbastanza semplice ovvero prendono la superficie della piazza in cui si tiene la manifestazione prendono un punto di vista privilegiato da cui guardare dall'alto la folla e la concentrazione della folla e calcolano quante persone ci possono essere per metro quadro ok se una piazza ha 100.000 metri quadri loro dicono in media in un metro quadro ci possono stare dalle 2 alle 4 persone ok e dipende da vari fattori dipende dalla concentrazione dipende dal tipo di evento dipende anche dalla stagione pensa tu d'estate le persone sono meno vestite ovviamente hanno meno strati di vestiti addosso possono stare ci stanno di più bravissimo d'inverno con i cappotti magari eccetera meno persone quindi la questura dice se c'è una piazza da 100.000 metri quadri che è tantissimo ovviamente e ci calcoliamo 4 persone per metro quadro ci stanno 400.000 persone guarda io stavo guardando le piastrelle che abbiamo in questo studio secondo me ogni gruppo ogni quadrato di 4 piastrelle è un metro quadro perché saranno 4 piastrelle più o meno da un metro per un metro quadrate così effettivamente 4 a un concerto ci stanno 4 ci stanno assolutamente a un concerto bello sentito dentro quel metro quadro ci stai anche in 6 forse si infatti si può arrivare anche a 6 però per farti un esempio piazza San Pietro ha una superficie di 23.000 metri quadri se prendiamo 5 individui a metro quadro arriviamo a 115.000 persone si piazza San Giovanni stracolma al massimo secondo la questura a 150.000 persone però ci sono state manifestazioni in cui hanno detto ce ne abbiamo ce ne abbiamo messe 2 milioni quello su cui si indica tantissimo è Circo Massimo Circo Massimo secondo la questura è grandissimo povero massimo 300.000 persone alcuni sono arrivati a dire abbiamo raccolto a Circo Massimo 3 milioni di persone ecco perché allora evidentemente tutte e due tirano un po' nella direzione che più gli conviene però almeno la polizia parte da un protocollo lei ti dice guarda per ogni metro quadro ce ne stanno 4 i conti sono presto fatti gli organizzatori invece su cosa si basano? onestamente vanno a cazzo l'organizzatore dice più diciamo meglio è magari da uno spirito di osservazione forse vanno dall'ottimismo allora vi mettiamo il pezzo nuovo di Beyoncé perché poi Francesco ha un non è una notizia è una lettura è una lettura del nuovo disco di Beyoncé che magari potreste trovare interessante Texas Hold'em su Radio DJ allora prima di adentrarci su Beyoncé sono arrivati un po' di messaggi sul tema del lavoro alcuni ascoltatori dicono sì magari ci sono più assunzioni ma è la qualità del lavoro e gli stipendi sono il problema è così la qualità del lavoro è peggiorata è migliorata è sempre uguale ma non adeguata per esempio al caro della vita sì assolutamente sì allora diciamo alcuni dati su questo ci sono stati attivazioni dei rapporti del lavoro nel 2023 pari a 13 milioni di queste solo il 17% sono state a tempo indeterminato gli altri erano contratti a tipo determinato a progetto 30 giorni a progetto quindi c'è il problema del precariato da una parte e dall'altra il problema degli stipendi non congrui allo stile di vita c'è stata proprio un anno fa ma neanche un anno fa sei mesi fa una sentenza della corte di gastazione che ha stabilito che lo stipendio deve essere congruo allo stile di vita per permettere uno stile di vita dignitoso alle persone che è una sentenza storica sì quando si parla di stile di vita che cosa si intende banalmente anche lo stipendio rapportato alla casa spesa della casa della città in cui ti trovi la casa rappresenta per molti ragazzi più del 60% delle spese che sostengono nel mese se tu a Milano prendi uno stipendio di 1000 euro è veramente uno scontro impari con la città in cui vivi diventa veramente difficile veniamo a Beyoncé abbiamo ascoltato la canzone insomma il primo singolo di questo nuovo disco di Beyoncé che è un disco country io pensavo fosse una scelta stilistica invece c'è un messaggio di Beyoncé dietro questa dietro questa scelta allora sì è molto interessante sono entrato anche io nel rabbit hole partiamo da due dettagli nella foto di copertina di Beyoncé cioè Beyoncé è un cavallo no esatto Beyoncé si è venuta su un cavallo con la bandiera americana partiamo dal cavallo è una marca Lipizzaner una no una razza una razza beh ma per Beyoncé è un po' a che gusto a che gusto lo vuoi il cavallo ma lo voglio ripizzanoli è ovviamente uno di quei tipi di cavalli che nascono neri e poi col passare del tempo diventano bianchi attenzione lei ha una fascia con i colori americani tipo quelle fasce da sindaco italiane con scritto non Beyoncé ma Beyoncé con la I al posto della O perché la madre quando nacque all'anagrafe registrarono il suo il suo nome il suo cognome con Beyoncé anziché Beyoncé ok quando anni dopo andò a lamentarsi all'ufficio anagrafe e gli disse guarda ringrazia a Dio che ti hanno fatto il certificato perché ai neri manco lo facevamo quindi c'è già cavolo e lei è dell'83 82-83 quindi insomma è che stiamo parlando esatto diciamo che da anni c'è un movimento che vuole raccontare bene la storia americana e in qualche modo rivendicare origini sonore ed estetiche lei si ispira un pochino al whitewashing che è avvenuto cioè quando noi pensiamo al cowboy pensiamo a un cowboy è un uomo duro forte ma bianco certo ecco quando tra il 1880 e il 1890 calcola che un cowboy su quattro era nero erano più di 8000 persone nere che viaggiavano appunto per la frontiera si vedevano rifiutate ospitalità e vitto passano gli anni l'America riscopre il mito del cowboy quasi politicamente lo stesso Eisenhower il presidente degli Stati Uniti vuole reimporre quell'estetica del cowboy per risollevare una nazione renderla forte eccetera quindi i cowboy tornano tornano a Hollywood e tornano tutti bianchi John Wayne un quarto del cowboy cioè i cowboy neri vengono completamente cancellati infatti si parla di whitewashing dei cowboy questa ripulitura se vogliamo avviene tanto a Hollywood quanto nella musica con il country il country nasce come musica nera certo sì 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 è una matrice del blues sì 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 e c'erano tantissimi cantanti neri che facevano country quando arriva l'industrializzazione quando arriva l'industria della musica dicono ok noi dobbiamo trovare cantanti star di country bianche c'è un Ralph Fir che è un grande manager inizia a girare l'America con un obiettivo io devo trovare una star la nuova star bianca del country e la trova nella Carter Family era una famiglia bianca la famiglia Carter che diventano i Beatles del country a scrivere le canzoni di questa Carter Family era per la maggior parte un artista narrow certo da lì poi Taylor Swift Taylor Swift è icona della destra certo quando era un artista country prima ovviamente della svolta politica lei era un icona della destra infatti poi quando ha detto di essere di sinistra è stata massacrata dalla destra e quindi c'è tutto questo movimento che vuole raccontare questo whitewashing anche nella moda Farrell Williams direttore creativo di Louis Vuitton ha creato la nuova collezione 2024 ispirata a Cowboy e ha messo a sfilare tutti i modelli neri vestiti da Cowboy proprio per riappropriarsi esteticamente di questa c'è un bel documentario mi pare che si intitoli l'ho visto tanto tempo fa Pop That Made Us su Netflix in cui genere per genere analizzano un po' la storia di vari generi musicali la dance il metal il rock eccetera sono molto interessanti anche quelle sui generi io ho trovato molto interessanti anche quelle sui generi che non mi interessano musicalmente ma la storia è comunque molto interessante nel capitolo delle boy band viene proprio raccontato come le boy band che armonizzavano sono andate a prendere un genere che era fatto da band di artisti di artisti neri e a tavolino è stato deciso ok il genere quando questi artisti neri sono riusciti a portare questa musica in classifica i boys to men i Jackson 5 esatto ok questa musica allora adesso piace anche i bianchi teniamo la musica ma facciamola fare a dei gruppi bianchi da lì NSYNC Backstreet Boys bla 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 sono rifarcimenti bianchi di generi musicali che vengono da una cultura da una cultura nera su Radio DJ bentornati siamo sempre in diretta sono le 12.39 c'è Francesco Giano che non potendo essere qui con noi ieri il 25 aprile non ha potuto parlare di questa cosa ieri ma lo facciamo oggi insomma con un giorno di ritardo un passaggio su questa ricorrenza ricorrenza bellissima purtroppo da 30 anni ci sono sempre un po' di polemiche attorno a questa ricorrenza festeggiamo la liberazione negli anni intorno al 94 sono iniziate un po' le polemiche attorno al 25 aprile all'epoca era insomma nuovo governo Berlusconi iniziano le opposizioni e inizia anche una parte dell'opposizione politica a protestare contro le alleanze ad esempio del governo Berlusconi e ci si inizia a scontrarsi sull'effettivo contributo che i partigiani hanno dato alla liberazione d'Italia insomma le solite polemiche che tornano sul tormentone e qui ci viene in aiuto Barbero quando dice ma uno dei miti è che la resistenza non serviva a niente la fecero ci liberarono gli americani Alessandro Barbero in una risposta stupenda dice beh in realtà la resistenza è servita a due cose a livello militare è simbolico a militare abbiamo tenuto ad esempio sotto scacco sette divisioni dei tedeschi al nord un generale nazista disse Hitler insomma nei documenti disse guarda nessuno mi sta facendo penare più come l'Italia ma soprattutto dal punto di vista simbolico dal punto di vista simbolico abbiamo lanciato un messaggio al mondo ovvero che c'era una nuova generazione di italiani che non era d'accordo con la dittatura fascista e che stava lottando per liberarsi questo pezzo di Barbero l'abbiamo messo proprio ieri in onda insomma per celebrare il 25 aprile tra le cose si ricollega anche a quello che dicevi tu prima sulla post truth cioè la post verità ha fatto un passaggio Barbero anche su questo cioè lui diceva per esempio mio nonno è stato ucciso dai partigiani ma io non posso riferirmi alla storia in base alla mia esperienza personale e alla sofferenza che quella perdita ha causato alla mia famiglia io devo rapportarmi alla storia seguendo la storia esatto non in base alla mia esperienza personale ma a quello che la storia poi ha raccontato perché c'è un po' questa cosa di prendere tutto sul personale non qualsiasi messaggio qualsiasi polemica prenderla sul personale in realtà poi se vai a vedere tra l'altro anche i fatti i partigiani erano composti da tantissime persone di varie estrazioni sociale di vari mestieri di varie estrazioni politica ogni brigata aveva i suoi la sua scusa ogni partito aveva la sua brigata c'erano le brigate del partito comunista quelle del partito d'azione della democrazia cristiana c'erano gli ex militari quindi come ha detto sempre Barbero una frase bellissima erano ragazzi giovani di vari mestieri di varie estrazioni politiche che volevano che lottavano per il futuro solo che ognuno sognava un futuro diverso dall'altro e perciò quando noi festeggiamo questa cosa dovremmo festeggiare anche quella diversità di sognare un futuro diverso assolutamente prima abbiamo fatto anche una promessa visto che siamo in tema di hai citato i partiti si stanno avvicinando le europee e i partiti devono scegliere i loro loghi i loghi è sempre una cosa bellissima è scaduto il termine sono stati presentati 42 simboli ed è scoppiato il totologhi ovvero mettiamo il nome del leader oppure no all'interno del simbolo cosa è consigliabile c'è una scuola di pensiero predominante allora possiamo dire che tradizionalmente almeno negli ultimi anni i partiti di destra che sono stati un po' più personali specie con l'avvento del berlusconismo hanno iniziato a mettere molto di più il nome del leader infatti a questa l'europe per giugno il simbolo di fratelli d'italia ha scritto Giorgio Meloni Lega c'ha scritto Salvini Premier Azione c'ha scritto con Calenda e addirittura in Forza Italia c'è la scritta Berlusconi Presidente dalla parte sinistra si critica questo uso di mettere il nome nei simboli come una deriva leaderistica e personalistica è ovviamente doppio taglio è un effetto traino tu lo usi quando dici ok io c'ho un leader fortissimo che mi trascina mi dà un più 2-3% ai voti perciò metto il suo nome lo sta facendo tantissimo fratelli d'italia se vediamo i manifesti anche a milano c'è scritto proprio con Giorgia neanche con Meloni sui manifesti editorali c'è scritto con Giorgia quindi personalismo perché in questo momento la figura di Giorgia Meloni fa un effetto traino sul partito vale più del partito stesso a volte ci sono a sinistra c'è stato tanto parlare nel PD nel PD Elish Line nuova leader del partito ha detto guarda forse io potrei mettere potremmo mettere il mio nome nel simbolo non è vero che non era mai successo nel PD era già successo con Walter Veltroni quando venne fondato il PD nel 2008 era stato appena fondato c'era il bipolarismo lotta Walter Veltroni contro Silvio Berlusconi il PD dice ok mettiamo il nome di Walter Veltroni e in effetti fece il 33% il PD è un risultato fortissimo c'è stato un grande dibattito questa volta alla fine Elish Line ha fatto ha detto no non lo metto perché sarebbe una proposta che dividerebbe più che rafforzare perché molti del PD hanno detto ragazzi noi non siamo come Forza Italia siamo un partito hanno forza le nostre idee non dobbiamo essere vittime dei personalismi è questione di strategia è una cosa molto italiana all'estero negli altri paesi tipo Francia Inghilterra Germania non si mette mai il nome del leader lo fece solo una volta Emmanuel Macron ma in maniera molto timida è tipica molto delle cose italiane ci sono dei luoghi fantastici c'è sempre però se questa se questa strategia eventualmente si è visto essere una strategia non dico vincente ma che comunque paga non sarebbe meglio andare oltre una certa etichetta pur di portare a casa qualcosa in più cioè poi inizio l'ora sì ti direi ci sono due rischi primo nel caso di Elishline molte ricerche magari hanno detto guarda magari non è un effetto traino cioè non è detto che mettere il nome di Elishline non sia così forte come nome esatto e dall'altra è sempre un rischio perché tu ti affidi esclusivamente alla figura del tuo leader se il tuo leader ha un inciampo o il tuo leader lascerà o ci sono tante cose il nome del partito poi sfiorirà come un soufflé ed è un po' magari quello che è successo diciamo Forza Italia ha ancora Berlusconi presidente nonostante purtroppo Berlusconi sia morto un anno fa proprio perché è ancora appigliata la figura del suo leader e quindi devi cercare una strada un po' più strutturata del partito sui simbolini invece? i simbolini è bellissimo come li scelto? allora cioè praticamente abbiamo raggiunto un nuovo record c'è il simbolo di libertà che è la lista di Cateno De Luca Cateno De Luca sindaco di Messina molto famoso anche per i suoi interventi un po' alla tanzare un po' virale nel tentativo di raggiungere il 4% cosa succede? ovviamente le liste vogliono mettere più formazioni assieme all'interno del simbolo bene il simbolo della libertà di Cateno De Luca ha all'interno 19 simboli di altrettanti partiti una cornucopia una cornucopia da dove escono tutti i simbolini da Italexit al Grande Nord dal partito del capitano ultimo a noi agricoltori il partito dei pensionati Grande Nord Popolo Veneto Fronte Verde il Popolo della Famiglia Indipendenza e hanno addirittura intervistato il designer del simbolo di Cateno De Luca che dice io lavoro siamo lui da 15 anni ogni notte mi chiamava per raggiungere un simbolo cosa devi fare? un albero di Natale di quelli che piacciono a Maurizio ogni pallina è un simbolino così va bene va bene Franci grazie mille per essere stato con noi grazie a voi